Salve, in questa serie di video mi propongo di affrontare gli argomenti base delle immagini digitali, riferiti particolarmente al video editing e video compositing. Saranno nozioni elementari con lo scopo di fornire una panoramica che permetta di affrontare tali argomenti più approfonditamente in un secondo tempo, se uno vuole ovviamente, ma comunque bastante a capire il necessario per utilizzare programmi di grafica. Io utilizzo CNLRGG e NETRON in ambiente Linux perché sono un sostenitore del software libero. Cominciamo. Senza stare a parlare della visione umana e dei suoi meccanismi, il famoso tristimolo, nel video editing e compositing si ha a che fare con immagini e filmati digitali. Il loro colore e luminosità vengono trattati tramite lo spazio colore RGB e anche HSV e YUV, per citare i più usati. Noi ci limiteremo a parlare di questi. Fondamentalmente un'immagine digitale su di uno schermo dello smartphone o di una TV o di un monitor PC, insomma di un qualsiasi dispositivo che ha a che fare con i colori, è basato sui pixel. Si parla infatti di array, cioè vettori, o anche di matrice di pixel. Questi sono i minimi puntini luminosi e colorati che vanno a formare l'immagine riprodotta o, se parliamo di sensori, registrata. L'occhio umano vede una grande quantità di colori senza soluzioni di continuità, anche se non sono certo gli infiniti colori del mondo reale. La limitatezza dei dispositivi che usiamo, come il sensore di una video camera o un monitor per visualizzare le immagini o anche una stampante per riprodurle su carta, fa sì che conviene lavorare su intervalli di valori matematici che caratterizzano ogni pixel. Gli spazi colori sono proprio il modo di limitare e mappare il mondo reale in termini matematici, in modo che possa essere riprodotto e visualizzato sui nostri dispositivi. Lo spazio colore assoluto sarebbe quello definito da CIE, che si chiama XYZ, perché dà proprio le coordinate tridimensionali delle componenti del colore, indipendentemente dal dispositivo che stiamo usando. Questo è da considerarsi lo standard. XYZ è basato sul modello di colore RGB, cioè su tre componenti colore in analogia alla visione umana che funziona sul tristimolo. Sono di tipo RGB anche tutti gli spazi colori dipendenti dal dispositivo, come per esempio il comune sRGB o REC709 e tanti altri, che mappano il loro gamut su RGB. Sono questi gli spazi colore di cui parleremo noi. Ah, dimenticavo, gli spazi colore dipendenti dal dispositivo sono detti anche spazi colore di lavoro. Il modello colore RGB scinde ogni pixel in tre componenti, detti canali, il canale del rosso, il canale del verde e il canale del blu. Intuitivamente siamo portati a credere che il canale del rosso sia di colore rosso, il canale del verde sia di colore verde e il canale del blu sia di colore blu. Ma questo è sbagliato! Gli spazi colore RGB sono utili perché permettono di trattare matematicamente i valori di colore, cioè numeri compresi fra 0 e 1 per ogni canale che stiamo analizzando. Un'immagine avrà una componente rossa, cioè il canale del rosso sarà caratterizzato da un numero compreso fra 0 e 1. La componente del verde sarà descritta da un numero anch'esso compreso fra 0 e 1 e così anche per il canale del blu. Attenzione adesso! I numeri complessi fra 0 e 1 sono valori di grigio, o meglio di luminanza, non sono colori. Un valore 0 corrisponde al nero, il valore 1 corrisponde al bianco e tutti i valori intermedi corrispondono a varie gradazioni di grigio. Avete capito bene che ogni componente RGB è semplicemente un numero e quindi un valore di luminanza? Prendetevi un momento per pensarci sopra. Superato questo scoglio, difficoltà dovuta al fatto di essere un concetto anti-intuitivo, avremo le basi sufficienti per capire tutti gli aspetti del colore di un'immagine. Guardiamo al bel programma di compositing NETRON per un esempio. Possiamo direttamente scegliere i canali di visualizzazione da visualizzare. L'immagine è composta da tre canali RGB, ma noi possiamo scegliere un solo canale da visualizzare. Grazie! Scorrendo con il mouse sopra l'immagine vediamo che i valori variano da 0 a 1, senza mai oltrepassare i limiti. Se guardiamo l'intera immagine RGB abbiamo tre numeri, colorati per comodità di visualizzazione. Se mettiamo i canali singoli vediamo un solo valore del canale. In ogni caso siamo sempre fra 0 e 1. 0 o vicino ad esso nelle parti scure e 1 o vicino ad esso nelle parti chiare. Ma si può fare di più. Usando il nodo SHUFFLE possiamo scendere i canali nei tre componenti separati, uno dedicato al canale del rosso, uno al verde e il terzo al blu. Con questi canali separati possiamo compiere operazioni molto complesse, sofisticate ed efficienti. Apriamo una parentesi, visto che stiamo parlando di intervalli di valori fra 0 e 1, per introdurre l'importante concetto di contrasto. Il contrasto è la differenza fra il valore minore del nero di un'immagine e il valore maggiore del bianco. Se abbiamo neri puri, uguale a 0, e bianchi puri, uguale a 1, allora il contrasto sarà massimo. Se invece abbiamo solo grigi più o meno scuri, allora la differenza fra i valori massimi e minimi sarà minore e il contrasto è più basso. Il fatto che i file RAV o anche LOG o FLAT siano a basso contrasto è proprio per registrare un numero maggiore di informazioni senza avere la saturazione, cioè il clipping, dei bianchi o neri puri che azzerirebbero le informazioni ricavabili. Ma sto anticipando troppo, quindi ritorniamo allo spazio colore RGB. Il colore viene fuori da tre numeri di canali singoli riuniti insieme nel pixel, ma non approfondirò il meccanismo con cui funziona. Con i tre canali abbiamo un colore, per esempio 0,3, 0,5 e 0,7. Con un solo canale abbiamo un grigio. E i pixel grigi che vediamo su schermo, allora, come sono fatti? Da uno solo dei tre canali? No, è più semplice. Ogni grigio è caratterizzato dai tre canali RGB, aventi lo stesso valore numerico. L'esempio fatto prima è un colore, un blu piuttosto freddo in questo caso, perché i numeri dei tre canali sono diversi. Un grigio invece è, per esempio, 0,3, 0,3, 0,3. Oppure un grigio piuttosto chiaro potrebbe essere 0,8, 0,8, 0,8. Si può notare che i colori hanno a che fare anche con la luminosità, brightness in inglese. Infatti, i colori più scuri hanno valori numerici più bassi, mentre valori più alti corrispondono a colori più luminosi. Immagino che adesso penserete che sono tutte complicazioni inutili. Se vedo un dato tipo di rosso nel mondo reale o su un'immagine digitale, mi basta riconoscerlo, o se proprio vogliamo usare la matematica per giocarci sopra, assegnarle un singolo numero, per esempio 3516. Questo, infatti, avviene davvero nei vari cataloghi di colore, come per esempio il pantone. Però non è così. Il fatto di suddividere il colore in tre canali, ripeto, tre valori numerici di luminanza compresi fra 0 e 1, ci permette di fare tantissime operazioni e filtraggi sulla nostra immagine, modificandola secondo necessità o semplicemente secondo i propri gusti. Pensate a un montaggio video di più sequenze dentro a SineL RGG. Sequenze diverse avranno illuminazione e colori diversi, e non solo. E quindi appariranno disomogenee e avranno bisogno di un lavoro di color correction. Questo è possibile farlo, come abbiamo spiegato nel video 14, 15 e 15 bis del relativo canale di SineL RGG. Se li avete visti, saprete che abbiamo lavorato proprio su canali RGB e a volte HSV. Se poi invece di video editing parliamo di video compositing, allora l'uso dei canali RGB è ancora più importante, perché bisogna integrare diversi elementi eterogeni nello stesso frame e non solo omogenizzare i clip consecutive. Gli canali RGB ci permettono di avere un maggior numero di informazioni e quindi maggiore controllo sulle operazioni da effettuare. Come dice Ron Brinkman nel suo bel libro, la manipolazione e la combinazione dei singoli canali di un'immagine può essere usata per ogni tipo di operazione, dalla color correction all'estrazione di matte. L'uso dei nodi nei migliori programmi di compositing, Netron, quello che uso io, diventa allora comodo per avere canali separati da utilizzare alla bisogna, qualunque sia lo scopo da raggiungere. SineL R non funziona con i nodi, bensì sul layer, ma grazie ad alcuni filtri, specialmente quelli di FFMPEG, è possibile fare molte operazioni sui singoli canali, oltre ai classici interventi sui pixel nella loro totalità. Passiamo brevemente al concetto di risoluzione di un'immagine digitale per sfatare un altro mito. Ah, da ora in poi ometterò la parola digitale, dandola per scontata. La risoluzione spaziale di un'immagine è semplicemente il numero di pixel la cui è costituita. Ho parlato di risoluzione spaziale, perché esistono anche la risoluzione di colore, detta anche profondità di colore, e la risoluzione temporale, che vedremo dopo. Quindi un'immagine o un frame di 400 pixel di larghezza e 600 pixel di altezza ha una risoluzione spaziale di 400x600 uguale 240.000 pixel. Tutte le informazioni dell'immagine sono in quei 240.000 pixel. È più comodo però ragionare in termini di larghezza per altezza e quindi la risoluzione HD, detta anche impropriamente Full HD, è più comodo riferirla come 1920x1080, che per l'effettivo risultato numerico, cioè 1920x1080 uguale 2.073.600 pixel. Ripeto, la risoluzione è solo il numero di pixel di un'immagine. Invece dire 300 dpi, non è un'indicazione di risoluzione, come generalmente si crede, bensì la densità di punti presenti nella stampa. Si usa infatti solo in termini di stampa delle immagini e solo se accompagnata dalla dimensione della stampa. Quindi si deve dire di una stampa 20 pollici di larghezza a 300 dpi. Conoscendo anche l'aspect ratio, si può calcolare la risoluzione dell'immagine di partenza e non della stampa, lo ripeto, ma non lo farò certo qui perché è fuori argomento. In conclusione, attenzione a parlare di dpi, non sono la risoluzione dell'immagine. Se vogliamo molte informazioni su cui lavorare, ovvero molti dettagli nell'immagine, dobbiamo usare un'alta risoluzione. Questo però comporta una grande occupazione di spazio. Per lavori di alta qualità dobbiamo quindi ricorrere ad hardware potente e a tantissimo spazio di archiviazione. Se non è richiesta la massima qualità, allora si può scendere al compromesso che più ci soddisfa o che siamo costretti ad utilizzare. Interrompiamo qui questo primo video e ci vediamo nel secondo per continuare a esaminare la profondità colore.